Ciao a tutti e benvenuti. Oggi vi parliamo del ricevitore Bluetooth AOK BRC2, un prodotto in fascia di prezzo media comparato all'offerta di mercato, che sta vendendo molto, sta avendo un buon successo di vendite. Due parole sulle cose che avete bisogno di tenere in considerazione quando cercate questo tipo di ricevitore. Innanzitutto volete tenere presente le sue dimensioni, il dato fisico quindi, che forma ha, e quanto pesa, quanto è l'ingombro. Di quali spinotti viene fornito, quando l'andate a comprare, che cosa trovate nella confezione. A quale versione Bluetooth è aggiornato il software e quindi con quali apparecchi sarà compatibile. Le funzionalità di cui dispone, quindi se vi permette di effettuare anche ad esempio telefonate mentre lo utilizzate. E che batteria monta e quali sono le prestazioni in termini di autonomia e di tempi di ricarica. Adesso andiamo a vedere queste caratteristiche una per una. Per quanto riguarda la forma e le dimensioni, diciamo che questo adattatore è leggerissimo, pesa soltanto 14 grammi, ed è un blocchettino, un parallelepipedo nero, lo vedete, lungo 5 centimetri, largo 2,5 e spesso soltanto 1. Quello che possiamo aggiungere è che non c'è in dotazione una fascetta adesiva per appiccicarlo ad esempio ai vetri o alle piastrelle, quindi se volete fare questo uso dovete procurarvi voi l'adesivo. Per quanto riguarda i cavi e gli spinotti in dotazione, troviamo questo spinotto male to male da 3,5 mm che è l'ideale per collegare il ricevitore allo stereo di casa oppure a quello dell'auto. C'è poi lo stesso spinotto da 3,5 mm con cavo, se volete attaccare il ricevitore a un paio di cuffie oppure a qualche altro dispositivo mobile. E poi c'è anche il cavetto micro usb che però non serve per l'utilizzo, non serve per azionare il dispositivo, serve soltanto per ricaricare la batteria. Per quanto riguarda il software in dotazione, diciamo che questo dispositivo è aggiornato alla versione Bluetooth 3.0. Non è l'ultimissima in circolazione ma non crea grossi problemi perché tutte le versioni più recenti di Bluetooth sono comunque retroattive e quindi anche i dispositivi più moderni e più aggiornati riusciranno comunque a vedere il ricevitore e interagire con esso. Veniamo adesso alle funzioni del nostro ricevitore Bluetooth. Diciamo subito che lo possiamo collegare fino a due dispositivi contemporaneamente. Troviamo qui sul lato frontale, lo vedete, il tasto multifunzione che ci permette sia di avviare e mettere in pausa la musica sia, se abbiamo connesso il ricevitore a un telefono cellulare, di gestire le chiamate, quindi prenderle e riagganciare il telefono. Sul davanti c'è poi il piccolo microfono integrato, sempre per poter parlare al cellulare. E infine, di fianco, troviamo i tasti per la regolazione del volume. Veniamo ora all'alimentazione. Il nostro ricevitore Bluetooth è alimentato da una batteria lipo, vale a dire litio-polimero, che garantisce un'autonomia di 5-6 ore circa durante l'utilizzo e 360 ore in standby. Il tempo di ricarica è di 2 ore e, come abbiamo detto, avviene attraverso il cavo micro-USB. Per concludere, possiamo dire che il ricevitore Bluetooth a UKBRC2 è uno strumento assolutamente portatile, è molto comodo, leggero, piccolissimo. Lo potete mettere davvero dove vi pare e può collegare fino a due dispositivi contemporaneamente. Lo potete attaccare un po' dovunque. e noi lo troviamo particolarmente indicato per un uso con uno stereo casalingo, se magari ne avete uno un po' datato come quelli di qualche decina di anni fa, o se avete un'auto un po' vecchia e l'autoradio non è più molto aggiornata. Grazie per averci seguiti, ci vediamo alla prossima!